Non è caduto nell'oblio il progetto di riqualificazione dell'ex cinema Balilla. A breve riprenderanno i lavori, in modo tale che nel giro di un anno e mezzo l'opera sarà completata. Lo annuncia ai microfoni di Onda di Gimimo Taglieri, già vicepresidente della Fondazione Carispa, ancora presidente della società di scopo della Fondazione. Per l'ex cinema Balilla è stata stanziata una somma di un milione e mezzo di euro. Secondo il progetto originario della Fondazione, l'intento è quello di realizzarvi un centro polivalente dedicato a varie attività culturali. L'edificio si estende su 700 metri quadrati, 500 dei quali coperti. Oltre al cinema è stato acquistato anche il locale attivo che ospitava una trattoria. La destinazione è catastale della struttura, frequentata da intere generazioni di sulmonesi, e commerciale e cinematografica, ma l'obiettivo della Fondazione è quello di realizzarvi un polo culturale, una sorta di pantheon per omaggiare quanti si sono distinti e si continuano a distinguere per il progresso della vita culturale del capologo Peligno. La nostra intenzione è quella di creare un circuito della cultura, che comprende la casa, delle culture, il recupero dell'ex cinema Balilla e gli edifici vicini da destinare alle associazioni, spiega Mimmo Taglieri. L'edificio stile Liberty, che si trova a pochi passi dal complesso dell'Annunziata, è stato costruito dagli anni 30 e poi chiuso 40 anni dopo. Nel gennaio del 2010, a causa dei danni provocati prima dal terremoto, poi dalle incessanti piogge, è venuta giù una parte del tetto, costringendo i proprietari e una famiglia sulmonese a transennare l'ingresso. Da tempo è stato di abbandono, lo storico cinema dovrebbe tornare presto a essere un luogo di promozione culturale e a disposizione della città.